è possibile battere l'S&P 500 o meglio la performance dell'S&P 500 su base annuale seguendo alcuni dei più bravi investitori su piazza degli ultimi anni beh è la risposta cercherò di darvela all'interno di questo video ma vi faccio subito notare questo non pensate immediatamente ad un hedge fund manager ad un trader o quant'altro perché la sorpresa arriva proprio qua perché sto parlando di Nancy Pelosi la speaker della camera degli Stati Uniti che tra l'altro è stata insegnita di trader dell'anno del 2021 e come potete notare la crescita delle proprie plus valenze in portfoglio con gli investimenti effettuati a partire già dal 2020 addirittura hanno fatto crescere il proprio patrimonio di circa 16.7 milioni di dollari qualcosa di davvero incredibile e tra l'altro con suo marito Paul che è effettivamente il braccio che effettua le operazioni hanno raggiunto un patrimonio di quasi 100 milioni di dollari insomma qualcosa di davvero rilevante che cercheremo di analizzare all'interno di questo video la prima domanda che vi potrebbe scattare in testa è questo beh ma è un esponente così importante della politica americana che fa speculazione sui mercati finanziari beh dobbiamo parlare di insider trading no assolutamente no ci lo disse direttamente la stessa Nancy Pelosi this is a free market come lei stessa ha definito il tutto ma non c'è soltanto la sua dichiarazione ma c'è anche un qualcosa di più perché lo stock act firmato dall'ex presidente degli Stati Uniti nel 2012 permette tutto questo infatti proprio lo stock act combatte o meglio vuole combattere l'insider trading perché perché semplicemente impone a tutti i politici statunitensi di pubblicare a distanza di 30 45 giorni quelle che sono state le proprie mosse fatte in ambito di investimenti e o speculazione sui mercati finanziari per tutte quelle operazioni che soprano un controvalore di almeno 1000 dollari beh un'altra successiva domanda quindi è questa possiamo seguire l'operato dei politici statunitensi beh ce lo dice anche quest'ulteriore articolo fatto da market sentiment che addirittura è nato ad analizzare oltre i 9000 trade effettuati dai politici statunitensi negli ultimi due anni ritroviamo qualcosa di davvero interessante perché scendendo leggermente più in basso possiamo ritrovare questa tabella mette semplicemente a confronto con vari ritardi quelle che sono state appunto le scelte fatte dai politici seguendo le stesse che performance avremmo ottenuto rispetto all'S&P 500 beh seguendo le comunicazioni con circa un mese di ritardo appena possibile ritroviamo comunque sia una sola performance di lo 0,1 per cento se addirittura ci allontaniamo di circa un trimestre beh la performance aumenta leggermente del 1.3 per cento ovviamente ritrovate sulla sinistra delle performance già molto molto buone ma addirittura il confronto che ci dà l'ulteriore riga in basso è questo cioè dalla comunicazione in poi fino ai giorni nostri quanto ha sovraperformato la scelta dei senatori e dei parlamentari statunitensi il mercato beh addirittura un più 6 per cento qualcosa di davvero rilevante adesso però vi faccio notare anche un'altra cosa perché perché semplicemente quasi nessuno o meglio gran parte dei politici statunitensi va oltre quelli che sono i limiti imposti dallo stock act perché secondo quest'articolo praticamente gran parte dei politici viola quello che è lo stock act ma perché lo fa semplicemente perché la pena pecuriaria è veramente irrilevante perché si parla semplicemente di una multa da pagare di circa 200 dollari e allora tutti lo fanno anche perché pagare sicuramente non è pesante per loro e vedremo tra pochissimo quelle che sono gli ingenti investimenti fatti da questi esponenti della politica abbiamo inquadrato alcuni punti focus in questi primi secondi di video ma vi faccio notare anche un'altra cosa il tracker del portafoglio di nancy pelosi perché secondo questo tweet e questa immagine che circola in rete la performance di cui già accennavo in precedenza delle scelte fatte da nancy pelosi e ovviamente family e marito addirittura sono andati a sovraperformare professionisti del calibro di bill ackman warren buffett george soros come potete vedere è un tweet dell'ottobre 2021 e notate quel più 69 per cento di performance realizzato appunto dalla stessa portafoglio di nancy pelosi vi faccio notare anche quest'ulteriore immagine perché uno può sicuramente cercare di ritrovare piccole cifre a disposizione e qua addirittura è stato creato il pelosi index e quindi se nel 2019 avessi investito 100 dollari nel pelosi index a quanto ammonterebbe il mio ritorno complessivo a 196 dollari come potete ben notare ben al di sopra dei 173 dollari che appunto fanno riferimento all'andamento dell'S&P 500 è chiaro che in questo momento alla luce di tutti questi dati vi posso garantire e vi faccio vedere il tutto tra pochissimo che negli Stati Uniti è partita la rincorsa a seguire l'operato dei politici statunitensi e chi più di reddit ci può dare queste informazioni beh lo ritroviamo attraverso questi vari screenshot che vi faccio vedere perché davvero ci sono tantissimi post che vanno a cercare di seguire quello che fanno nancy e paul pelosi con tutti gli aggiornamenti del caso e vi faccio notare immediatamente anche un primo post dove viene appunto messo in evidenza quello che è un'ultima operazione fatta su alphabet google e vi faccio vedere tra poco i file di cui vi parlavo in precedenza che appunto nancy pelosi deve diciamo deve redigere in conformità allo stock act bene come vi dicevo prima non c'è soltanto nancy pelosi ma c'è soprattutto suo marito che è davvero la mano per così dire armata che opera sui mercati finanziari e lo ritroviamo davvero in tantissimi articoli anche storici e ve ne faccio vedere una carrellata di questi perché perché semplicemente paul è davvero un investitore molto molto attivo investe in apple in amazon in invidia non solo in tesla ma ci sono davvero tantissimi da market insider appunto a forbes in cui vengono citati tutte le operazioni fatte a tutte quelle che sono appunto davvero operazioni talvolta anche un po borderline nel senso che ci sono state alcune diciamo operazioni fatte con tempismo davvero molto sorprendente qua si ricorre anche alla storia un po più datata 2016 in questo caso perché perché semplicemente alcune volte sembra davvero un'operazione fatta a puntino e vi faccio notare appunto tornando su questo articolo di fox news come appunto il tempismo alle volte sia davvero risultato un po particolare ma tant'è che nonostante le eventuali segnalazioni nulla è stato poi fatto ulteriormente dagli organi regolatori bene detto questo avete capito quelle che sono appunto le attività di nancy e paul pelosi andiamo quindi davvero sul tema caldo di questo video e allora andiamo a rivedere l'ultima pubblicazione fatta allora andiamo subito in condivisione con il file e allora possiamo rivedere immediatamente nella prima riga acquisto 10 opzioni call strike price a 2000 scadenza settembre 2022 e questa l'ultima comunicazione fatta 17 dicembre 2021 ma non c'è soltanto questa operazione fatta perché possiamo ritrovare anche micron technology ulteriori 100 opzioni call con strike price a 50 dollari sempre scadenza settembre 2022 possiamo ovviamente iniziare anche a fare un confronto a quelle che sono ovviamente le quotazioni attuali circa 2800 dollari per le azioni di alphabet google per quanto riguarda invece i micron technology oggi siamo a circa 96 dollari per azione insomma cerchiamo di tenere ben impresso questo confronto perché sicuramente potrebbe nascere qualcosa di interessante da fare e da studiare andiamo avanti perché sempre all'interno di questa pubblicazione ci sono ulteriori mosse messe in campo acquisto di 100 opzioni call su roblox corporation strike price 100 dollari addirittura con una scadenza di queste opzioni a gennaio 2023 roblox corporation in questo momento quota circa 78 79 dollari per quanto riguarda salesforce due acquisti due pacchetti uno da 100 opzioni call sempre scadenza gennaio 2023 uno con 30 opzioni call sempre con scadenza di gennaio 2023 entrambi con strike price a 210 e andiamo a vedere se forse che cosa sta quotando ecco siamo intorno a 2 e 30 dollari per azione non finisce qui perché l'ultimo aggiornamento riguarda l'acquisto di 50 opzioni call strike price 130 dollari scadenza settembre 2022 per walt disney anche qua un breve confronto in questo momento le azioni sono circa a 150 dollari quindi quello che possiamo immediatamente resumere da questa pubblicazione è innanzitutto un'operatività molto basata sul medio lungo periodo scadenze di queste opzioni almeno 9 12 mesi e che comunque sia sembrano ancora una volta sottolineare quella che è la fiducia da parte dei coniugi pelosi sul mercato statunitense ma prima di arrivare alle conclusioni di questo video vi voglio dare un altro spaccato e vi voglio subito condividere anche questo articolo del new york times perché non c'è soltanto l'analisi di nancy pelosi e del suo operato ma si può andare direttamente a rivedere anche quella che è stata la ricerca fatta su addirittura quasi 2600 trade del senatore per di negli ultimi ovviamente anni e qua ancora una volta questo grafico ci viene in soccorso perché negli ultimi anni il complessivo portafoglio del senatore per diù ha sottoperformato l'S&P 500 ma se andiamo a selezionare attraverso anche le comunicazioni fatte in precedenza le azioni su cui ho operato beh il grafico di destra è molto eloquente una sovra performance incredibile da parte di queste scelte fatte dal senatore stesso quindi per rispondere alla prima domanda possiamo seguire l'operato di questi senatori di questi parlamentari USA assolutamente sì vi metto in descrizione il file per poter ricercare tutti i membri del congresso e non solo e ovviamente servirà poi star al pezzo per quanto riguarda le varie pubblicazioni fatte ma leghiamoci anche a un fine ad un altro aspetto e qua mi riporto su fine print data che fa un articolo davvero molto completo che va ovviamente all'analisi di tutto quello che è successo nel portafoglio di nancy pelosi e paul pelosi scusate dal 2019 in particolare in poi una crescita davvero incredibile ma vi faccio notare immediatamente quelle che sono comunque sia le cifre messe in campo lo stock di asset in portafoglio è davvero rilevante come vi dissi prima la ricchezza complessiva dei due congresso in questo momento dopo il 2021 ha raggiunto quasi 100 milioni di dollari e qua possiamo ritrovare quelle che sono sicuramente cifre importanti ma vi faccio vedere infine quelle che sono due grafici in particolare uno in cui viene chiesto praticamente quanti soldi servono per poter operare davvero in maniera sincrona a paul e nancy pelosi beh come potete notare si parla di alcuni milioni di dollari infine vi faccio notare quella che è davvero la performance realizzata negli ultimi almeno tre anni che nel complesso sovraperforma l'S&P 500 ma per quanto riguarda il 2019 vedete più 4,9 per cento a favore dei coniugi pelosi più 14,3 per cento nel 2020 peggio è andata nel 2021 in quanto il portafoglio dei coniugi pelosi ha sottoperformato del 15 per cento l'S&P 500 ma comunque sia si sta parlando sicuramente di performance incredibili e allora è lecito seguire queste operazioni e tutte le comunicazioni che verranno fatte da qui in futuro sì si può ovviamente seguire l'operato di questi grossi investitori anche perché stanno facendo davvero delle performance importanti stanno facendo piuttosto bene ricordo che le comunicazioni arrivano con un mese e mezzo di ritardo circa ma sono anche operazioni di medio lungo periodo e allora come ovviare a questo lag a questo ritardo beh sicuramente gli spunti che possiamo trarre dalle pubblicazioni dei vari senatori e vari componenti della politica statunitense ci possono accendere una lampadina e quantomeno farci la stella polare magari però è chiaro infine che serve la propria strategia da mettere in campo serve conoscere quello che è la propria avversione al rischio e soprattutto capire quelli che sono i capitali a disposizione di ognuno di noi per cercare di diversificare all'interno del mondo dei mercati finanziari come fanno appunto questi grossi investitori voglio chiudere cercando di strappare un ulteriore like a questo video e fatemi sapere soprattutto attraverso i vostri commenti se vi piace il tema trattato in questo video per me e per giuseppe era molto molto interessante il tutto anche perché come vi ho fatto vedere all'interno di questo video la performance realizzata batte ampiamente nomi del calibro di George Soros, Bill Ackman e così via quindi e Warren Buffett scusate me ne stavo dimenticando e quindi ci sembrava opportuno condividere con tutti quanti voi tutto questo materiale quindi fatemi sapere attraverso i vostri commenti se magari inizierete a seguire l'operato dei vari politici statunitensi ma appunto per strapparvi un ulteriore like su Reddit si divertono tantissimo lo sappiamo ormai nello scorso anno e allora voglio chiudere questo video con questo meme in cui c'è un confronto appunto tra Warren Buffett il quale dice nessuno può sapere se il mercato salirà o scenderà e gli risponde invece Nancy Pelosi come dire se si è interessante io però so già dove andrà il tutto bene spero di avervi strappato un ulteriore sorriso a me non resta che ricordarvi che vi potete iscrivere al nostro canale telegram ufficiale attraverso il link in descrizione io vi ringrazio anticipatamente vi ricordo che vi aspetto al prossimo video hai trovato la nostra diretta interessante iscriviti al nostro canale youtube attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news grazie e buona giornata ciao 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 ciao